La curva dell'epidemia in Veneto potrebbe essere arrivata all'apice, ma questa è solo la luce in fondo al tunnel e c'è ancora molta strada da fare per uscire dall'emergenza. Nel frattempo il presidente Luca Zaia emana una nuova ordinanza che va a disciplinare le aperture prefestive dei negozi, basandosi sul rapporto fra metrature e clienti. Lo stesso Zaia richiama però i Veneti a un forte senso di responsabilità per questo periodo critico. Il senso civico dei Veneti e anche il sacrificio di molte imprese e di molti lavoratori, il sacrificio che noi abbiamo chiesto peraltro il sabato e la domenica, vorrei ricordarvi, qualcuno dirà ascoltando, sì, i giorni che lavoro di più, ci ho capito, però non avevamo altre scelte, ci ha permesso di restare tutte queste settimane in zona gialla. Che vorrei ricordare ai più disattenti anche oggi che l'area successiva, quella arancione, prevede la chiusura dei confini comunali, cioè tu non esci più dai confini del tuo comune per fare la spesa, se non alimentare, se non hai un supermercato nel tuo comune. La chiusura di tutti i ristoranti, di tutti i bar e di tutta una serie di altri vincoli. Lo dico perché qualcuno deve capire che questo sacrificio che abbiamo chiesto ci ha permesso comunque di gestire meglio la fase dell'infezione. Grazie. Grazie. Grazie.